Musica Bene, allora, bello a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il cavaliere oscuro di YouTube per questo nuovo video Allora, in questo nuovo video ovviamente da grande appassionato di giochi di ruolo infatti noi sul nostro canale YouTube abbiamo portato vari giochi di ruolo tipo Seven Sea, L'Ultima Torcia, L'Ombra del Signore dei Demoni, Dungeons & Dragons e da grande appassionato di giochi di ruolo, come vi dicevo, non potevo non portare questo interessantissimo nuovo gioco di ruolo che ovviamente ancora deve uscire perché attualmente sto aspettando il Kickstarter che uscirà ovviamente verso novembre e questo nuovo gioco di ruolo si chiama Unglorious, il prontuario del novello deceduto ma andiamo ovviamente a elencare diciamo le caratteristiche di questo nuovo gioco di ruolo e come abbiamo detto il Kickstarter di questo gioco di ruolo uscirà il 25 ovviamente novembre ovviamente per chi volesse essere interessato a questo nuovo gioco di ruolo potete andare su Facebook alla pagina di Ace Games e anche potete andare anche potete andare anche su Facebook vi potete scrivere al gruppo aspettate che adesso ci guardo un attimo allora vi potete scrivere al gruppo di vi potete scrivere sul gruppo di Unglorious GDR il sepolcro degli eroi a cui io mi sono attualmente iscritto un gruppo veramente bello veramente bello comunque andiamo ad elencare l'ambientazione di questo nuovo nuovo gioco di ruolo ovvero il mondo mora ovvero il mondo dell'orto in principio fu il trapasso è un bel mondo questo non c'è che dire foresta di vogliose fresche montagne e vicinato cordiale l'unico problema è il numero di morti o meglio il problema è che non si intonano con l'ambiente infatti come potete vedere Unglorious il nuovo gioco di ruolo che uscirà il 25 di novembre in Kickstarter è ambientato nell'orto ovvero il mondo dei morti o meglio è qui che inizia il viaggio ovvero laddove quello dei normali avventurieri finirebbe perché? perché i protagonisti di Unglorious ovviamente non sono i normali giocatori perché come sappiamo nei giochi di ruolo ci sono i normali giocatori viventi qui invece i protagonisti di Unglorious sono i trapassati i non morti le carcasse normalmente usate come sacchi da pugilato nei dungeon e gli abomini che si nutrono di carne umana e che in generale non hanno affatto un bel aspetto molte di queste affermazioni sono vere altre sono alimentate dalle credenze popolari che vedono i cadavri ambulanti come una terribile minaccia per i viventi in realtà però questi morti non vogliono altro che guadagnarsi la gloria che in vita non hanno ottenuto appunto il nome e qui il nome del gioco Unglorious praticamente in realtà questi morti non vogliono altro che guadagnarsi la gloria che in vita non hanno ottenuto poiché sono deceduti in maniere tutt'altro che onorevoli per non dire totalmente idiote infatti l'orto ovvero il mondo dei morti è un piano intermedio fra il mondo dei vivi e molteplici al di là che attendono lo smistamento delle anime esistono al di là cupi e infimi dove la sofferenza è al primo posto e l'igiene all'ultimo salendo si trovano gli al di là in puro stile ospizio dove regnano colori pastello e distese erbose a perdita d'occhio e dove le partite a tombola durano letteralmente un'eternità cioè veramente fantastico all'apice della scala dell'altro mondo si trovano infine gli al di là più ambiti fra i quali spiccano per importanza e fastosità quelli dei grandi eroi ovvero banchetti infiniti birra volontà e battaglie ricreative insomma la pacchia eterna per arrivare fin quassù i giocatori dovranno prima riscattare ciò che resta delle loro anime risolvere i loro conti in sospeso e lottare per la salvezza dell'orto che al momento è più un pericolo che mai quest'ultimo e lungo viaggio li porterà quindi ad avventurarsi fra i mondi del regno dei morti e fra i regni del mondo dei vivi dove ad attenderli vi è quella gloria a tanta cognata e questo già fa capire che il gioco è molto diverso dai classici giochi di ruolo gli avventurieri sono vivi non sono già morti qui invece è proprio il bello di questo gioco è che gli avventurieri infatti i protagonisti sono già morti siete già dei teschi capito è questo il bello poi ovviamente affinché esista un mondo dei morti dovrà pur esistere la sua controparte dal cuore ancora battente ovvero la storia di Anglorius si svolge nel mondo mora un pianeta caratterizzato dalle più iconiche atmosfere di un mondo fantasy ma non è sempre stato così inizialmente il mondo mora era una terra estremamente noiosa tanto che regnanti non erano neppure interessati a muovere guerre né tantomeno ad addestrare degnamente i propri eserciti i cittadini a loro volta erano nomiti contadini calzolai stralieri impiegati postali seppur adatto per delle cartoline il territorio era privo di qualsiasi attrattiva e di conseguenza l'esplorazione e il progresso erano lasciati all'ultimo posto ma nell'orto che già allora esisteva ovvero il mondo dei morti era dunque popolato prevalentemente da vecchetti morti pacificamente e da sventurate vittime di malanni e incidenti se il mondo dei vivi era non lo so immaginiamoci quello dei morti perciò questo è veramente fantastico qui infatti sta anche il bello del gioco ovvero l'ironia della morte perché se Ben Anglorious tratti un tema non propriamente felice come quello della morte scoprirete che le sue atmosfere sono tutt'altro che cupe gli eroi sono spesso sbadati così come suggeriscono le modalità stesse del loro trapasso al contempo però essi si troveranno a scoprire che morire non è poi così male infatti i poteri e le possibilità dei loro corpi liberatasi dal fardello della vita consentiranno loro di compiere azioni rocambolesca ai limiti dell'assurdo caratterizzate da un componente di neanche troppo velata idiozia veramente veramente un gioco veramente interessante da finanziare ovviamente come ho detto in kickstarter il 25 di novembre che io ovviamente finanzierò perché io come ho già detto sono un grande appassionato di giochi di ruolo e io voglio promuovere questi giochi di ruolo italiani che meritano davvero 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 tanto ecco adesso vi faccio vedere degli scorci del kickstarter che potete trovare gratuitamente iscrivendovi come ho già detto sul gruppo mettendo la vostra email vi potete scrivere e vi daranno gratuitamente questo piccolo kickstarter che vi dà diciamo le basi diciamo per iniziare a giocare su anglorius ecco qui c'è anche una breve mappa c'è una breve introduzione ovviamente con i vari regni i vari insomma le varie ambientazioni e sappiate che su anglorius si gioca con un dado solo ovvero con il dado a 10 facce il regolamento diciamo ora io sono abbastanza esperto nei regolamenti diciamo queste sono sono una quarantina di pagine 43 insomma sono come regolamento è abbastanza semplice è abbastanza semplice insomma non è difficilissimo imparare da subito le regole anche perché insomma essendo io anche stato un master insomma come mezzo ma le ha capite insomma abbastanza però la cosa bella di questo gioco come ho già detto è che ovviamente voi i personaggi non sono vivi ma sono già morti e ovviamente ci sono delle regole anche nel mondo dei morti e qui diciamo adesso vi faccio qualche esempio per esempio per esempio eccoci qui ci sono anche delle regole ovviamente che i morti devono eseguire per esempio ecco tu morto qualunque sia la tua provenienza il tuo retaggio e il campo santo dove ti hanno sepolto devi ora tenerti alle leggi dell'orto l'orto che ti ospita l'orto che ti protegge l'orto che veglia su tutte le anime tu prima regola non interferirai con il lavoro della morte ciò significa che non contribuirai a sovraffollare l'orto ingannando uccidendo senza ragione o spingendo al suicidio tu non mentirai sui privilegi dell'altro mondo ciò significa che hai vietato al proselitismo pro morte così come le campagne di marketing o qualsivoglia altra opera di convincimento volta a far varcare prematuramente i cancelli dell'orto tu non ti approprierai degli averi di un morto di un mortopoli ciò significa che non trafugherai l'ectocolla che nasce fra le sue strade e non ruberai ai mercanti dell'orto tu non recarai danno alle creature dell'orto ciò significa che non ti è permesso uccidere boni piti e qualsiasi altra creatura figlia dei signori dell'orto se non per legittima difesa ti è comunque concesso schiacciare gli scrabbi più fastidiosi o dare una sberla a un boni rispettoso ma solo al fine di rimetterlo in riga non prenderci però l'abitudine cioè vedete è fantastico ci sono però anche delle regole perché essendo morti perché ovviamente essendoci delle regole le invitaci devono essere per forza delle regole anche nel mondo della morte ovvero le leggi dell'orto comunque queste potete andare anche a leggervele sul kickstarter che potete trovare gratuitamente ve lo ripeto gratuitamente se riscriverete al gruppo GDR Anglorious su facebook adesso vi faccio vedere alcune immagini ecco vedete questo è uno dei cimiteri guardate fantastico guardate che ambientazione del mondo insomma dei vivi e dei morti insomma un kickstarter poi ovviamente qui abbiamo la creazione del morto con tutte le le varie generalità nome provenienze le varie professioni le varie cause della morte le varie resurrezioni molto bello molto bello molto bello molto interessante molto bello ecco per esempio qui ci sono per esempio quando creiamo il personaggio delle varie tipologie di morte tipo un torsolo di mela andato di traverso oppure un coltello maledetto con quale ti stavi facendo la barba oppure un lupo mannaro scambiato per un amico quelle bastardino una freccia nel ginocchio cioè veramente delle idee veramente fantastiche per iniziare questo nuovo gioco di ruolo come ho detto molto particolare però che già a me mi ha fatto dire sì cioè veramente fantastico questo l'ha giocato subito cioè veramente veramente bellissimo ecco come vedete qui ci sono alcune tipologie di morti guardate che spettacolo di grafica insomma di ambientazione di guardate questo morto con la spada che spettacolare ovviamente ci sono i vari regolamenti infatto come ho già detto Anglorious usa un dado usa un singolo dado ovvero quello a 10 facce un di 10 ovviamente in base al tipo di test potrebbero essere aggiunti o sottratti altri dati ma saranno sempre comunque un di 10 perché esistono tre tipi di test quelli basati sull'abilità quelli riguardanti il combattimento standard e quelli per il lancio di incantesimi e poteri del morto ovviamente c'è anche l'addestramento del morto con le vari abilità e i vari punti anima per cui qui non ci sono delle abilità come in Dungeons e Dragons ma vengono utilizzati i punti anima perché quale forza dirompente è in possesso di ciascun morto nonché la sola a tua disposizione qui ci sono i punti anima ovvero i PA che possono essere usati non solo per attivare poteri incantesi ma anche per concentrarsi durante un qualsiasi test per compiere azioni eroiche o addirittura per curare le ferite subite infatti a meno che non siano utilizzati come parte di un'azione per esempio per modificare il risultato di un test e che non sia diversamente specificato tutte le capacità che richiedono una spesa in punti anima richiedono un'azione per essere lanciati e questo già fa capire che il regolamento diciamo non è poi così difficile da capire insomma poi uno come me insomma avendo giocato anche a tantissimi vari giochi di ruolo insomma insomma a me diciamo che questo nuovo gioco di ruolo insomma è piaciuto tantissimo anche perché poi nel combattimento c'è anche questa particolarità perché insomma essendo morti cioè i morti possono anche andare in pezzi perché ovviamente sebbene sia più resistente il tuo corpo morto è facile è facile farlo andare in pezzi dopo tutto le ossa e i muscoli non sono più quelle di una volta infatti qui il tuo corpo può perdere pezzi come conseguenza di colpi violenti ma puoi anche decidere di staccarti volontariamente cioè vedete qui la genialità degli autori di Anglorious ma perché dovresti farlo perché è semplice tutti i morti sono capaci di muovere i propri pezzi che anche se separati dal corpo restano comunque di sua intima proprietà quindi in questo in questo caso la tua testa potrebbe vedere anche se hai lanciato altrimenti un muro e le tue mani potrebbero infilarsi sotto una porta per aprirla cioè vedete vedete i giochi di ruolo quante cose in quante cose possono spaziare i giochi di ruolo cioè è veramente veramente fantastico questa cosa perciò la mia recensione non può che essere molto 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 positiva su questo nuovo gioco di ruolo che come già spiegato uscirà in kickstarter come già detto il 25 di novembre ecco qui ci sono alcune delle armi morte che potremo equipaggiare al morto come vedete spade alabarde asce insomma il kickstarter è molto interessante poi come già detto se vi iscrivete al gruppo su facebook insomma è gratuito lo potete scaricare come ho fatto io e averlo sia sullo smartphone che sul computer gratuitamente ecco poi ci sono anche le pozioni e varie e varie altre cose adesso vi faccio fare vi faccio dare uno sguardo veloce diciamo al alle varie diciamo ecco vedete questo personaggio da vivo e voi eccoli qua ecco il testio personaggio da morto cioè molto bello spettacolare spettacolare veramente veramente vedete che spettacolo di ambientazione veramente un'ambientazione molto 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 interessante ma parliamo dei conti dei conti in sospeso perché cosa richiede qual è il traguardo finale di questo gioco di ruolo il traguardo ovviamente cosa richiede l'impresa nell'orto potrebbe consistere nel catturare per esempio un ricercato o recuperare un tesoro oppure altre cose però qui praticamente il gioco finisce ovviamente con il conto in sospeso del morto perché i conti in sospeso sono le imprese specifiche che danno la possibilità di rimediare i propri peccati e di mettere a posto le questioni lasciate risolte nel mondo dei vivi perché ovviamente quando moriamo comunque c'è qualcosa di risolto che non abbiamo fatto quindi nel primo caso sono i musoni stessi a far comparire specifici conti in sospeso ovvero che sono dei chiamati riparatori mentre nel secondo caso essi appaiono nel certificato di morte a seconda delle esigenze personale ovvero a seconda di come creiamo il nostro personaggio infatti è importante specificare che i conti in sospeso devono riguardare il mondo dei vivi e solo i rari casi possono essere portati a termine nell'orto ovvero nel mondo dei morti perché per esempio se uno di questi prevede l'uccisione di un rivale che è stato strappato alla vita da mani diverse da quelle tue e che quindi si trova già nell'orto a quel punto dovrai andare a caccia delle sue spoglie cadaveriche e spedirle o nell'addilla definitivo oppure a parte questo un conto in sospeso non ha vincoli particolari ma è necessario seguire delle semplici linee guida per catalogarlo per esempio il sospeso marginale un'impresa di poco conto come recuperare un oggetto rubato oppure finire di lavare le stoviglie sporche della cena oppure una vendetta un'espiazione uno sfizio oppure un obiettivo di vita perduta cioè vedete questo diciamo che è praticamente il capitolo finale diciamo per concludere ovviamente una volta che un conto in sospeso viene portato a termine che sia in via ufficiale o meno questo semplicemente svanisce dal certificato di morte insomma inutile tentare di cancellarli con una gomma sono tuttavia molti morti che per i motivi più disparati non sono in alcun modo in grado di portare a termine a un conto in sospeso infatti queste sono le occasioni perfette per i morti più avventurosi ovviamente poi il gioco è bello anche per questo che vogliono racimolare qualcosa in più oltre alla gratitudine stessa di una povera anima infatti tutte le imprese riguardanti conti in sospeso sono considerate ufficiali ufficiali infatti come abbiamo già detto qui non ci sono ricompense o punti esperienza perché ovviamente il personaggio è già morto quindi come funziona qui ci sono le ricompense qui in anglorius non ci sono gloria riconoscimenti ad attendere morti al termine di impresa qui ci sono i buoni le licenze e le raccomandazioni che sono ciò che fanno realmente gola un'anima trapassata o in alternativa beni più specifici offerti da chi non ha documenti ufficiali da mettere sul banco delle trattative per esempio i buoni appaiono come piccoli e rigidi foglietti di ola con sopra impresso il marchio dei signori dell'orto e servono per acquistare beni servizi di ogni genere da queste parti tipo per della moneta di scambio prezzino tra le diverse mortopoli oppure le licenze che sono delle speciali pergamene intrese di energia morta e confezionate attingendo alla forza stessa e consegnandole agli speciali piti degli uffici di elevazione questi le spremeranno per distillare la forza atta a incrementare i poteri fisici del morte delle sue armi praticamente possiamo potenziare le nostre armi le nostre abilità con le licenze con queste speciali licenze con i buoni praticamente invece possiamo prendere tipo dei soldi per acquistare beni o servizi ovviamente e poi infine poi ovviamente ci sono anche le raccomandazioni che sono i più preziosi di tutti i documenti perché vengono consegnate in buste nominative chiusi da un sigillo di ceravacca e contengono resoconti dettagliati delle imprese che hanno portato al loro confezionamento quindi ogni raccomandazione è uno speciale permesso che eleva la classe del morto quindi non a caso mentre buone licenze vengono date immediatamente questi documenti ovvero le raccomandazioni possono richiedere molto tempo proprio per assicurarsi che siano meritati comunque potete leggere le varie le altre varie informazioni se ovviamente vi iscriverete al gruppo facebook come ho già detto GDR Unglorious il sepolcro degli eroi che potete trovare su facebook mi raccomando ragazzi perché questo è veramente un gioco che merita tantissimo e spero che anche voi e spero che anche voi ovviamente e spero che anche voi ovviamente il 25 di novembre ovviamente come vi ho detto spero che anche voi vi iscriverete al sito al gruppo per diciamo per finanziare anche voi il kickstarter per diciamo per promuovere questo nuovo gioco di ruolo ma perché perché Unglorious è veramente un giriere fantastico perché i tuoi giorni da viaggiatore sono finiti ti hai ripreparato un'avventura che avrebbe dovuto ricoprirti di onori invece sei morto in maniera ignominiosa ebbene se sta leggendo questo annuale come da titolo dello stesso significa che sei morto ma non è niente di grave anzi è proprio grazie a queste pagine che potrai riprendere l'avventura laddove l'hai abbandonata e magari vendicarti di che vi ha posto termine a me che non sia stato tu stesso il prontuario del novello deceduto è in pratica una guida per tutte quelle anime fresche fresche di sepoltura e le quali sono interessate a capire più chiaramente come funziona questa complessa e variegata nonché stimolante faccenda della morte con questo libro nelle tue mani e un po' di sano spirito di avventura potrai iniziare a riguadagnare l'onore tanto agognato in vita e gettarti a capofitto tanto ormai pregiudico sì nel mondo di Unglorious perciò mi raccomando aspetto anche voi nel mondo di Unglorious grazie ragazzi mi raccomando naturalmente vi aspetto sul gruppo GDR Unglorious il sepolcro degli eroi su facebook mi raccomando finanziate anche voi il kickstarter perché questo è uno dei giochi di ruolo consigliati da me mi raccomando perciò per il momento finisco con questo video perciò mi raccomando come sempre ragazzi lasciate il like mettete un mi piace e come sempre continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirmi iscrivendovi al canale a presto ragazzi per un nuovo video ciao a presto